buongiorno a tutti sono alfredo manzo e vi presento la nostra ultima realizzazione il primo tablet realizzato in italia in ambiente microsoft windows 7 ed intel il prodotto che ha un'area visibile di 11.6 pollici ha una grossissima apertura al mondo enterprise grazie a due porte usb una porta hdmi un lettore di memorie micro sd e soprattutto la connessione con una dock station che ci consente di avere ancora delle altre porte tipo la ethernet con la connessione alla rete quindi poter utilizzare tutti i software già presenti nei nostri sistemi informativi senza nessuna modifica senza nessun adattamento il prodotto in distribuzione da dicembre nella versione base costa meno di 500 euro nella versione più evoluta comprende anche il gps e una sim umts per avere una connessione always on con il mondo esterno nella versione più evoluta abbiamo anche inserito office 2010 perché ne focus group abbiamo visto che l'utilizzo prevalente degli applicativi è legato a word powerpoint che sono i programmi che utilizziamo di più il prodotto gode di garanzia internazionale è in distribuzione da dicembre e maggiore informazione le troverete sul sito www.ergo.it grazie per l'attenzione e a presto grazie per l'attenzione e a presto